Buonasera, sono Donatella Dalla Vecchia, ho 54 anni, sono sposata e ho due figli, Adele e Francesco, di 20 e 18 anni. Non ho mai fatto politica, però da sempre mi stanno a cuore delle persone e del territorio, dell'ambiente che secondo me sono in stretta relazione. Da 34 anni svolgo il lavoro di infermiera e soprattutto negli ultimi 11 anni ho lavorato all'ADI del distretto di Tiene occupandomi di persone che non possono più usufruire dell'assistenza o studiagliare, quindi soltanto domiciliare e molti anche nel fine vita. Però volevo dire che questa esperienza è finita perché da lunedì inizierò a lavorare presso le medicine integrati di Chiupano che i propri ottomani verranno inaugurate e quindi avrò una stretta collaborazione anche con il distretto di Piovene, quindi sarete costretti a vedermi anche qua Piovene. anche io mi sono entusiasmata innanzitutto prima del programma proprio per la componente di questo gruppo perché la collego necessariamente alla mia modalità di lavoro che facendo questo lavoro ho imparato a lavorare in equip e quindi a collaborare con più figure professionali, le più diverse, le più svariate e imparando questo si impara anche a valorizzare l'altro e con il fine di un obiettivo comune. Quindi sicuramente anche nel curare una persona, nell'assisterla, bisogna essere, collaborare con gli altri nel rispetto delle certe differenze. Voi con il medico, con il psicologo, con il logopedista, è un lavoro proprio che ti porta a non essere una persona unica, indispensabile, ma capisci che l'unità ti porta a raggiungere gli obiettivi. Per quanto una persona sia preparata, competente, da sola non riesce a ottenere i risultati sperati o comunque inferiori alle aspettative. E quindi sono convinta anche con questo gruppo che ci dà la forza di raggiungere determinati risultati, perché sono convinta fondamentalmente che da soli non si va da nessuna parte. E lo stesso, lo penso, per il nostro Paese, da solo non va da nessuna parte. Ecco, quindi spero di dare il mio modesto contributo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, anche a breve o lungo termine. Grazie.